Nove vite salvate da una sola, quella spezzata di un sedicenne morto per trauma cranico. Il complesso multiprelievo di organi è avvenuto venerdì scorso agli ospedali riuniti di Foggia, nell'unità di anestesia e rianimazione diretta dal professor Michele D'Ambrosio. Sono stati prelevati i due polmoni, il cuore, i due lobi del fegato, i due reni e le due cornee. I polmoni e il cuore sono stati prelevati e trapiantati dal team dell'Istituto ISMET di Palermo. Il lobo destro del fegato è stato prelevato e trapiantato dal team dell'azienda ospedaliera di Padova. Il lobo sinistro del fegato è stato trapiantato agli ospedali riuniti di Bergamo. I due reni sono stati prelevati dal team della struttura complessa universitaria di urologia, diretta dal professor Giuseppe Carrieri, e trapiantati uno al Bambin Gesù di Roma, l'altro all'ospedale di Genova. Le cornee sono state prelevate dal team della struttura complessa universitaria di oculistica, diretta dal professor Nicola D'Ele Noci. e inviate alla banca dei tessuti di Mestre. Al termine della donazione, il direttore generale degli ospedali riuniti, Antonio Pedota, e il direttore sanitario, Laura Moffa, hanno incontrato i genitori del giovanissimo donatore per esprimere il proprio cordoglio per l'immensa perdita e la gratitudine per un atto d'amore così importante e per la sensibilità dimostrata in un momento di così grande dolore.